Carlo, domani c'è un appuntamento, ci sono dei nomi nuovi, vuoi fare un promo? Ma più che promo diciamo che molti anche dei presenti conoscono i luoghi, qualcuno ha già seguito la video chat dell'altra volta. Però per chi volesse ripassare o per i nuovi amici che magari qualcuno è sfuggito alla chiacchierata precedente, ci vediamo domani sullo stesso tema che abbiamo proiettato qualche giorno fa, il tema del paesaggio antico a nord di Neapolis che abbiamo presentato credo la settimana scorsa. Il link l'ho messo in chat, l'appuntamento è per le ore 16 domani. Per le ore 16 domani e lo presenteremo anche con il supporto di Stanna Palazzolo che è la coordinatrice di una bella associazione napoletana con la quale spesso collaboriamo, l'associazione Arte per Amore. Quindi magari per chi avesse qualche curiosità ci si rivede domani però su temi che non sono musicali ma sono temi legati a pietre antiche.